buongiorno a tutti ecco qua il prodotto top del sistema rossate rossa flechese nella versione semplice compatta dove il pannello di controllo entro contenuto in questa valigetta professionale fondamentalmente voi arrivate sul posto avete il vostro flechese che potete utilizzare anche eventualmente brandizzare col vostro nome potete utilizzarlo con delle gambe quelle sono delle gambe regolabili rinforzate voi arrivate non dovete fare altro che collegare la spina perché il sistema è un sistema con autoalimentato a 220 volt il sistema molto semplice si attiva pigiando l'interruttore on off digitando un impulso sul pannellino lampeggia segmento sulle satellite di riferimento attivo il segnale gps una volta che ha individuato la posizione l'antenna automaticamente si alza andando a posizionarsi attraverso un inclinometro sulla corretta elevazione che il software proprietario identifica una volta è in quota correggi eventualmente il fuori piano come potete vedere sta correggendo in antenna ecco già individuato e trovato il satellite una volta che il satellite è stato posizionato potete potete vedere questa posizione 39 gradi 38 gradi e fondamentalmente qua potete collegare anche il vostro modem via sat e segnali di ritorno della tv benissimo ho fatto questo fatto questo avete terminato di lavorare semplicemente per chiuda fatta pigiare il pulsantino verde esce sul segmento ch e l'antenna si chiude quindi in modo molto pratico molto semplice alla portata anche di coloro che non sono esperti del mondo satellitare ma hanno la possibilità di avere internet ovunque tutta europa senza nessun problemi rossat fly keys grazie a tutti